abitata da yoshi tra il quarto e il quinto secolo avanti cristo conobbe un notevole sviluppo sotto i romani che qui fondarono l'iternum nel 194 avanti cristo con il trasferimento di 300 famiglie di coloni il più illustre dei cittadini della piccola colonia fu scipione l'africano che in contrasto con il senato di roma e soprattutto con catone scelse di finire i suoi giorni proprio qui il lago patria è il più grande lago costero della campagna con una superficie di ben due chilometri quadrati e quello che dovrebbe essere un luogo dove ammirare la natura invece è diventato un luogo dove scaricare rifiuti o sversare nello specchio d'acqua liquami a lanciare l'allarme e il responsabile della lipu lago patria stefano franciosi purtroppo c'è ancora moltissimo da fare in particolare abbiamo notato che negli ultimi mesi le acque del lago sono tornate ad essere inquinate e questo è dovuto al fatto che dall'altra parte del lago sempre in direzione diciamo della fogna elato miziata o meglio partendo dalla che in effetti ci sono degli scarichi fognari che provengono ancora una volta dalla fogna elato miziata e questa volta è stato sfondato un diaframma di cemento in pratica quello che era stato fatto alla procura di cementificare uno dei due punti dove avvenivano gli scarichi è stato violato è stato letteralmente bucato il cemento e hanno ripreso a scaricare dall'altra parte poi c'è un altro grosso problema sempre nel comprensorio di Castelvolturno c'è una zona dove c'è una vera e propria discarica a cielo aperto erano sversatoi e noi abbiamo denunciato e segnalato più volte e so che lo stesso è stato fatto anche da parte dell'ARPAC e dell'esercito del i nuclei si occupano dell'operazione strade sicure per la sorveglianza quando riguarda il fenomeno dei luoghi però purtroppo tutto questo non ha avuto nessun effetto nel senso che lì continuano a sversare rifiuti il comunico a Castelvolturno continua a non bonificare e a non mettere in sicurezza quella zona ci vorrebbe chiaramente un transenamento una telecamera per evitare che i fenomeni di sversamento soprattutto notturni continuino a verificarsi il lago padre si può considerare un lago costiero per la posizione vicino al mare la modesta profondità in medio metro e mezzo e la salinità delle acque ospita una ricca fauna di uccelli palustri anche la fauna ittica è molto differenziata dal 1999 poi fa parte della riserva naturale foce del volturno costa di licola un'area protetta regionale che ha accorpato e ampliato precedenti aree protette ci troviamo su uno dei pontili del centro remiro una zona che noi stiamo cercando di rivalutare che sappiamo che qua dovrà venire la caserma dei carabinieri però tutto intorno il parco è un casolare che si trova un po distante e che potrebbe essere utilizzato come centro di educazione ambientale e come punto informativo per i turisti che vengono qui ad ammirare le bellezze del lago attualmente è comunque in stato di abbandono quindi stiamo cercando con l'aiuto ovviamente del comune di rivalutare tutta la zona c'è anche l'idea di far venire un centro di avviamento al ciclismo in maniera tale che i ragazzi della zona possano avvicinarsi a questo che noi riteniamo uno degli sport che più ti avvicina alla natura una volta che la strada qui è stata riparata possiamo chiaramente usufruire del circun lago come ottimo percorso degli allenamenti dei ragazzi prescindere la strada intorno al lago c'è tanta tanta vegetazione secondo secondo lei come si potrebbe rivalutare anche quelle zone ormai abbandonate questo verde abbandonato quale potrebbe essere un progetto valido per avviare anche delle attività lavorative sul lago patria l'idea nostra è quella che il lago patria essendo una riserva naturale deve essere necessariamente divisa per zone quindi deve avvenire quella famosa zonizzazione di cui si parla da tempo e che però non è mai stata fatta in pratica riteniamoci sul lago ci debba essere una zona destinata alle attività naturalistiche quindi una zona di riserva una zona destinata alle attività sportive potrebbe chiaramente comprendere la circun lago oltre che il anche parte del bacino sappiamo è destinata alle attività sportive del canottaggio e poi pensiamo che sicuramente ci possa essere anche un'attività dove ci possa essere un incremento dal punto di vista commerciale però pensiamo che tutto questo possa coesistere e possa essere diciamo il segnale di che finalmente si va nella direzione dello sviluppo compatibile solo facendo in modo che la strada non sia la circunlato intendo non sia un'autostrada quindi una strada grande che viene percorsa di continuo da un da flussi centinaia di automobili ma possa essere soltanto il una strada di collegamento dando la prevalenza a quella che la diciamo la la parte ciclopedonale pensiamo che eventualmente si possano creare dei terminal cioè dei parcheggi all'inizio alla fine della circunlago e fare in modo che tutta la circunlago possa diventare una grossa zona pedonale dove appunto ci possano essere pure punti di aggregazione chiaramente tutto questo possa servire di sviluppo al lago che chiaro quando quando più il lago è frequentato più forse riusciamo a evitare fenomeni quali vediamo purtroppo oggi ogni giorno tipo la prostituzione piuttosto che la frequentazione la parte di delinquenti di ogni tipo